Salve a tutti quanti, benvenuti alla nuova puntata di Svorto Bumana, versione Magiorette, yay! Quindi, una breve spiegazione, Camtasia mi ha rotto le palle, literalmente perché mi ha trollato un'altra volta e quindi... questa è la seconda volta... no, è la terza bellissima... no! 1, 2, 3, 4... è la quinta volta che mi trolla, quindi sono la cinque volta che faccio da ieri sera questo coso, io non ho dormito e sono un tattino nervella, yay! Va bene, comunque, abbiamo sconfitto quel lupo mannaro e abbiamo scoperto che ci sono le... nonne del mana che stanno addormendo qua, per una ignara di ragione io spioravo il mio tempo per capire che cazzo stavo succedendo come il te! Conte! Vlad? Allora, che ne pensi? Come la nuova candidata e il suo credimento? Conte Vlad! Ah, mia cara, non dar peso alla chiacchiere della servitù! Non sono il tipo da caccia, la sposa! Suvi, Isabella, non guardarmi con quegli occhi di sospetto! Salve! Isabella? E voi siete il signore del conte? Sì, il signore del conte? E voi siete il signore del palazzo? Il conte? Ebbene sì, il mio nome è Vlad! Conte Vlad! Dracula? O? O? Nel vedervi, fanciulla, desumo siate riuscita a disfarvi del mio smolesto servitore! O? Mi spiace tanto per il vostro maggior tomo, conte! Ma non ho avuto scelta! Io sono sicura... Io sono solo scuro... Eh, damn it! Io sono solo curiosa di sapere cosa siete voi, abitanti del palazzo! Io, signorina, sono un malvolio e vengo dal mondo di malvolia! Un mondo che un tempo... Eh, madonna santa, oggi so parlare uno schifo, Demet! Un mondo che non vedo ormai da lungo... Lungo... Tempo! E questa è la mia cara amica Isabella! Di nuovo, piacere di conoscerti! Conosco Isabella da tanto... Tanto tempo! Più tempo di quanto la mente umana possa concepire! Se non ti rega noia... Mia cara! Ma direi a parlare chiaro alla nostra ospite... E spiegarle cosa accade, di preciso, nella mia dimora! Oh no! Oh! Vuoi parlare chiaro, Coblad? Fa pure! Finalmente conoscerò le tue vere intenzioni! Isabella! Abbiamo tutto il tempo del mondo per queste cose! Non possiamo parlare un altro momento? Devo forse ricordarti che il principe di Malvolia... Ah! Ora pari nel principe, eh! Ma perché il principe dovrebbe stare dalla parte degli umani? Soprattutto se la persona alla quale le hai fatto quella promessa... È morta da tempo! Non ne sarei tanto certo! E se anche lui fosse morto? La mia promessa resterebbe sempre in vita! Ho dato la mia parola! E la mia parola, oltre a essere sexy LG! Il principe del Malvolia è davvero cambiato! In questo mondo è diventato un conte! E si è anche ramollito, a quanto pare! Isabella! Isabella! Ma... Guardate... Vuoi forse addormentare... Anche me? Come puoi? Oh! Oh! Levitazioni! Levitazioni! Cosa avete fatto, Isabella? Vieni! Accogli il tenebre! Accogli il tuo destino! Ahà! Sono arrivato giusto in tempo! Deiss! Isabella, il colto me ne va! Fammi nominare, amico! Tu sei quello che si diverte a rapire le donne e a chiuderele nelle bale, giusto? Se per spi... Beh... Se per... Per... Buona giornata, eh! Se per... Putta che fa! Io so! Deci lo fa là! Se per... Per spicarci, garzone! Ma guarda meglio! Osserva quelle donne! Stanno solo dormendo, ma io mi impasto in pace! E quando resteranno in questo palazzo, saranno al sicuro! E' questo che accadrà, che è accaduto ad Isabella! E la stessa cosa accadrà a questa ragazza! Le... Proseggerò! Tutte! E chi vi dà il diritto... E chi vi dà il diritto di farlo? Ho promesso a un amico che avrei protetto il clan del mana! La foglia dell'oscuro sire ha la sua origine nel popolo dei malvoli! Oh shit! Questo mi sta spoilerando il gioco! E io sono intenzionato a porvi il rimedio! Ma è terribile! Non pensate ai sentimenti di queste povere donne! Finchè questo mondo sarà pervaso al caos, queste donne... Dorne! Queste donne continueranno a dormire! E così farete voi, ragazza! Nessuno potrà più farvi... Del male! Ma... Tutto ciò non ha senso! Che lo vogliono almeno... Presto... Sarete mia! Oh shit! Il nostro boss... E... Sì! Seconda Bled! Che si trasforma in un tenero palloncino! Allora, tu! Ma por- Base! Ok, perfetto! Quello che dovevo fare è questo! Ora... Ma porca macchia! E quindi abbiamo scoperto che... Stramamente... Ok... Curiamo... No, 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 no! No 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 A chiapareveys A chiapareveys Non me Non me Non me Chiapareveys Chiapareveys Aiuto io morio 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 Che io morio Io morio Io morio Sì morite 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 Fatemi vedere Brutto Garzoni Che Garzoni Lo devo dire solamente io E io gli faccio abbassare Con questi trevoli danni Guarda è la volta buona Che muoro eh Ebbè porca macchia Oh hai rotto Muori 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 Oddio 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 Sto giocando letteralmente da schifo No Andare da base Non a me Aiuto Oh cheat Oh cheat Ok Vai Non ci sei mai quando Mi servi Vero Ok Ora In teoria Purtroppo Avendo finito i cosi Ho bisogno di dare la luce magica Vai Vai Se di voi fa male Puttana Eva Vai all'attacco Ah ci devo pensare tutto io Potere le donne Ok I am the number one Vest tu non hai fatto una beata minchia Come ti permetti Ah Liberale Isabella E anche tutte le altre Non incolpare Conte Sono stato io Che devi proteggere Le donne Le calde Le mani Dai calciato Direteci Cosa Cosa Re 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 Grants Come avete potuto Mi ricordo di quando giocavi tra le stanze del mio palazzo Il fantasma che ha visto il giardino Era Re Grants What the fuck Grants Come sei giunto fin qui Sei ancora vivo Dopo tutto questo tempo Oppure Sei davvero un fantasma Un momento Un momento Voi due vi conoscete Certo Donzella Oh Taff Ancora Certo Ragazzo Sì Dice Donzella Perché in teoria Si riferisce Alla majorette Quando tu giochi Il biondino Io e il Grants Siamo ottimi amici E' stato lui Chiedermi di fare ciò Che sto facendo A queste donne Re Grants Avete vero E' lei E' lui Lui Re Grants Avete veramente chiesto al Conte di Anche se le vostre intenzioni erano buone Come avete potuto Vi forgo le mie scuse Reali E' fantasma Fantasma Ve lo assicuro Non c'era altro modo Tara E' importante che tu resti in vita C'è un motivo per cui Non puoi morire Devi vivere Tara Ad ogni costo Ves Proteggila Pertanto vi conviene Lasciare questo posto I servi dell'oscuro sire sono vicini Non è un luogo sicuro E che ne sarà Isabella? Sarà bene Presto si risveglierà Re Grants Siete ancora vivo? O forse Fantasma Le di Re Grants Avevo pure dimenticato di dire Non pensare a me Ves Ora è più importante che tu vada I soldati dell'oscuro sire potrebbero piombare qui da un momento all'altro Eeeh Passa Passa Se intendete andare a Wendel Passando per la grotta paludose Ricordatevi di recuperare lo spirito d'acqua Che è richiuso lì Per spersare il segilio di pietra che blocca le strade delle grotte Usa il tuo spirito del fuoco Uno spirito dell'acqua nelle grotte paludose Ves Questo lo dovevo dire io Taci donna Perfetto Ho capito Grazie mille Re Grants Grazie mille Conte Vlad Grazie Isabella Andiamo Tara Abbiate cura Cura l'uno dell'altro Non lo faremo Promesso Casomai Lo faremo Promesso Un attimo solo I'm so sorry Ma solo io potevo avere una tosse e uno starnuto allo stesso momento Ma Ora Com'era la voce di Conte Vlad Chissà ricorda Quei ragazzi Sono in pericolo Grants Forse avremmo dovuto nasconderli a malvoglie per un po' No Grazie a queste sventure che si compirà il loro destino Hanno bisogno di compiere i loro veri poteri No Hanno bisogno di capire i loro veri poteri Sì Penso che tu abbia ragione Amico mio Un momento io ti ho detto Oh no Non dire No Tagli 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 Isabella Scendi Ci sembra i miei capelli Vlad Perché piangi Stai pensando di nuovo a Medusa Parlami Vlad Ora Vi paura Io vi dico solo questo qua Vlad sei uno spoilerista di prima categoria E anche tu Isabella Vabbè Scusatemi eh Lo devo fare Uiiiihihi Talalera talalà Talalera talalà Vabbè E' quello non l'inferito sta cosa E' bellissima Questa sensazione E' proprio come Quella volta Bassa Devo smettere di pensarci Lo sapevo Lo sapevo Sei tu Sei Lara Ehi tu A casa mia Qual giorno Quel pomeretto giorno Che segniva Sono così felice Dami un bacio Oh base Dami un bacio Mi dispiace per i tuoi genitori E' cosa mia che Non dire sciocchezze Non è colpa tua Ma dello scorsire Se ti becco E' stato quel vermo Uccidere i miei genitori E E mi dispiace tanto Tara Avevo promesso A tua madre Che ti avrei protetta Davvero? Non mi odi? Se non fosse stata lì Nessuno sarebbe morto Tuo padre E tua madre Sarebbero Già Non riuscirò mai A smettere di odiare E la scorsire Ma anche Ma ora che so Che sei viva Posso finalmente Liberarmi Dei fantasmi Del passato Dobbiamo guardare Avanti Tara Devere tutto a posto Mi Mi perdoni Grazie Grazie Ora dammi Il mio bacio Ok Ora mettiamoci Camino Wendel Ci aspetta Ma Il mio bacio Il mio bacio No torna qui Era un momento Romantico Come è potuto Fare una cosa Del genere Io che ero qui Pronto per Essere baciato Da te Cazzo Dopo tantissimi decenni Che non ci vediamo E tu mi fai una cosa Del genere Non usare Coraggio Vieni qui E vieni a parlarmi Dove sentono Vieni qui Di che mi devi fare Una cosa del genere Vieni No No Ok ragazzi Dopo questo Meno drammatico Muori Questo Meno drammatica Scena Vabbè L'ho fatta male Lo so Però Era peggio Era troppo Meme Ti con quel piugiglione Ah Nome nemico Io già so Con che cosa Ucciderlo Come here Allora Io in teoria Dovevo usare Raggio Perché sto usando Questo No io uso La mandra Perché E' debile E' salamandra No Veis Che me lo ammazzi Me lo ammazzi Fammi Ricoperare Un po' Di energia Grazie Ok Mentre lei Recupera L'energia Ho solo Due cose Da dire Perché Le voci Che avevo fatto Prima erano Peggio Un po' Troppo Sulla commedia Qui ho voluto Fare un po' Beh Sulla commedia Solo all'ultimo Il fatto Vieni qui Dammi un bacetto E basta Beis Fottiti Ecco Te l'ho detto E quindi Era solo questo Per andare giù Giù Troviamo Sì Perché non me lo dai Ecco Nord Tamas Quamosa Sud Strada per Wendel Non dobbiamo andare a nord Or dunque Perché Per Come ha detto il conte Che è stato uno spoilerissimo In prima categoria Perché poi Scopri più La scoprirete Perché C'è un micio che mi sta guardando un po' Troppo E Dicevo Ho voluto Provare a fare In modo più normale Possibile Perché Tra un momento Vabbè Tra ridere e scherzare Tra un po' La storia diventerà molto Seria E quindi Per chi sa Di che cosa sto parlando E vabbè Tra qualche capitolo Tra molti capitoli Verso la fine Dove far smettere di giocare E farlo seriamente il gioco Comunque 18 minuti Noi ci dirigiamo A Wendel Pima faccio Arosso Il pennuto Se gentilmente Me lo permette Me l'ha permesso Ora Super velocità Perché devo Questo si è pure fatto male Cretino Io a te Non ti curo E Andiamo Verso la tanna Spamosa Perché lì Dobbiamo vendere Lo sfidio Dell'acqua Perché sto a far così E qui troviamo Anche nuovi nemici Tra cui Questi fiori Che sono estremamente Deboli Al fuoco Lui passa di livello E Alla spada Ok vai Spaduto meglio Uccidilo Io uccido questo Ok vai Smutservi A un Chez C'è uno scrigno No Comunque Ho solo una piccola cosa Che vorrei vedere Lui è livello 9 Ah Vi faccio vedere Una cosa Ah ancora no Ancora no Va bene Vabbè Vi faccio vedere Com'è l'attacco Quella Del biondino Beh un po' Vabbè Usiamo un pochettino Del biondino Perché in questo caso Voglio usare lei Che tra l'altro fa pure male Debole al fuoco E alla spada Per quanto sto vedendo Veis Ti supplico Fallo fuori Ma Neanche Se scende Archeus In persona O in questo caso La terra del mana In persona Che tu fai qualcosa Di decente Ne mette Oh Maldico io Ora Andare Dove andare Andare qua sopra Sì perché c'è uno Scrinietto E io non lo voglio perdere Coppa angelica Questo ci serve Via Mi sa sulle palle Tu muori E l'altro no Va bene Perché abbiamo Tanto tempo Tante cose Da fare Un pochissimo tempo E noi saliamo Qui Oddio Sono rimasta incastrata Quel genino Mi vuole Volentare Ma anche no Perfetto Ho visto Una cosa interessante Ecco Mo muoio Per colpa di Corriptica Di mettere raggio Fammi abbassare Salve Ok Qui dovevo venire Perfetto Glotte prodose E Noi ci fermiamo In questo Punto Preciso Intanto faccio un attimo Quindi ragazzi Se avete piaciuto il video Mi raccomando Mettete un bellissimo Mi like Mi like Un bellissimo Mi piace E ci vediamo Per la prossima puntata Di Sword of Mana Versione Magelette Nelle grotte Pallose Sei io l'hater Bye bye E buona serata E grazie per l'attenzione Ciao